La sedicenne attivista svedese Greta Thunberg ha partecipato davanti alla Casa Bianca a Washington ad una manifestazione di giovani a difesa del clima. I dimostranti hanno inscenato un'estinzione di massa, simulando una morte per il riscaldamento globale del pianeta causato dalle emissioni di ossido di carbonio. Sono incredibilmente grata a ciascuno di voi. Sono orgogliosa di tutti voi che siete qui. Siamo in tanti, molti di più di quelli che mi sarei attesa all'inizio. Ero qua dietro, non vedevo niente, ma adesso tutto ciò mi travolge. Non fermiamoci mai. Continuiamo a batterci. Ci rivedremo la settimana prossima, il 20 settembre. Intanto alla Casa Bianca, mentre i giovani ambientalisti manifestavano, il presidente Trump dava un'altra picconata alle norme ambientali introdotte da Barack Obama, revocando una legge del 2015, introdotta per limitare l'inquinamento chimico vicino a ruscelli, zone umide ed altri specchi d'acqua.